Se c'è uno che capisce di musica è tipo Baudo per esempio, veramente come pochi. Senti ultima cosa, avevi raccontato che per il tuo compleanno ti erano arrivati molti auguri in più rispetto all'anno scorso perché si era saputo del tuo incarico. Mi dici a Natale cosa ti aspetti? A Natale cosa mi aspetta? Secondo me è l'arrabbiatura di tutti quelli che non saranno a Sanremo, esattamente l'opposto. Anche se ancora non si sa tralli a quel punto a Natale. No, però qualcuno dice, si sa se mi ha preso. Sarai solo sul palco dell'Aris? No, solo sul palco dell'Aris non si può. Chi ci sarà? Eh, chi lo sa, te lo dico a te adesso. Eh beh, non si prova, si prova.